Bene, dunque iniziamo a parlare di quella che è la sociologia dell'educazione e per farlo ci baseremo su un libro che metterò in descrizione, cioè Società, Cultura ed Educazione. Però comunque questo sarà un riassunto del libro, ma naturalmente anche una visione ed insieme, un approfondimento di quella che è la sociologia dell'educazione e nelle prime parti andiamo a vedere un po' quali sono i termini, come nasce e se possiamo considerarla disciplina oppure no. Naturalmente però la sociologia dell'educazione descrive i rapporti dell'educazione con la società di riferimento, però ci sono diverse definizioni e diversi modi di intenderla. In particolare però la sociologia dell'educazione e l'educazione è un connotato comune di tutta la storia dell'umanità e in ogni società si è sempre occupati, si è sempre preoccupati di educare le nuove generazioni e questo è quello che dice anche Emile Durkheim in questa frase dove, che la leggiamo, ogni società considerata ad un movimento determinato del suo sviluppo ha un sistema di educazione che si impone agli individui con una forza generalmente irresistibile. È vano credere che noi possiamo allevare i nostri figli come vogliamo e Emile Durkheim, poi lo vedremo, è per un modello normativo dell'educazione che dice che l'educazione ha proprio questo compito di quasi indottrinare, non indottrinare, però far passare quelli che sono i valori fondamentali della società anche agli individui anche se alcuni dicono che adesso come adesso, Emile Durkheim scrive nell'Ottocento, ma ora non c'è più o non c'è più la possibilità che ci sia questo modello normativo e questi autori un po' della postmodernità sono per esempio Neil Postman che già si capisce dal cognome, un cognome, un programma, cioè uomo del post di quello che sarà, proprio postmodernismo assoluto e dice che siamo in questi anni arrivati a quella che è la fine dell'educazione data da una crisi dell'istruzione nella scuola ma anche una crisi della stessa idea di infanzia, quindi anche la scuola come istituzione e come trasmettitrice di valori non ha più alcun significato. Poi Offe qui, un altro autore, stabilisce che è un po' la stessa cosa, cioè dice che è sempre più difficile definire gli obiettivi di istruzione e perciò questa una sua frase, una citazione, dice il sottosistema sociale rappresentato dalle scuole e dalle università sia caratterizzato in tutte le società industriali avanzate per avere più di ogni altro sistema espresso contraddizioni e prodotto conflitti. In una società dove è difficile definire gli obiettivi di tutto perché siamo alla fine di quelli che sono i valori tradizionali è naturalmente anche difficile stabilire quelli che sono i valori dell'educazione, dei valori da cui bisognerebbe partire per educare. Un'educazione senza un punto di partenza valoriale è qualcosa che non aveva successo. Poi anche un altro pedagogista importante, Jeroen Brunner, che dice che trova anche lui, ma si trova in generale un disagio evidente nel definire un progetto educativo perché dice che il rapito mutare di una società di cui non possiamo prevedere il futuro e per la quale ci riesce difficile preparare una generazione nuova. Quindi siamo ad un momento in cui nemmeno noi sappiamo prevedere il futuro, ma nemmeno che cosa vogliamo, com'è che facciamo educare verso qualcosa che ancora non conosciamo. E poi l'ultimo, l'ideatore della società liquida, naturalmente qualcosa da dire anche in questo riguardo, dice che il coordinamento tra lo sforzo di razionalizzare il mondo e lo sforzo di educare esseri razionali adatti ad abitarvi non pare più credibile. Cioè che abbiamo sempre avuto la tendenza di educare vuol dire creare una società più razionale, degli individui più coscienti, però il mondo è tutt'altro che razionale anche attualmente, quindi figuriamoci se possiamo trasmetterlo alle nuove generazioni. E questa è la grande differenza che abbiamo tra quello che è l'idea di Durkheim, che siamo nel periodo della modernità e invece il periodo di questi autori, che è quello invece della post-modernità, che vediamo come nella modernità, cioè la modernità ha incorporato l'idea di cambiamento come sottratto essenziale e motore dello sviluppo e del progresso, quindi il cambiamento è qualcosa di necessario e di ben integrato nella società. Invece nella post-modernità si deve convivere con l'incertezza e con la continua esposizione alla problematizzazione e alla rimessa in discussione, cioè il punto fondamentale della post-modernità non è quella del cambiamento, che sarebbe anche qualcosa di poco conto, però che si può risolvere, anche se la società cambia continuamente e basta stare al passo con i tempi, invece non si sta incerta, non si può stare al passo con l'incertezza, cioè deve creare un'educazione dell'incertezza, che è una cosa un po' atipica almeno questo. Infatti sempre il nostro Durkheim dice che se si comincia col domandare a se stessi quale deve essere l'educazione ideale, fatta astrazione da qualsiasi condizione di tempo e di luogo, vuol dire che si ammette implicitamente che un sistema educativo non ha nulla di reale in se stesso, cioè se ci sono dei valori si sa benissimo qual è l'ideale che si vuole tendere, se si comincia a chiedere quale dovrebbe essere questo ideale, vuol dire che è meglio lasciar perdere perché l'educazione non avrà luogo. E poi anche vediamo quella che è la sua concezione del sapere, che è naturalmente la parte fondamentale, cioè l'educazione si vuole, il suo obiettivo è quello della trasmissione del sapere. E lui scrive che ogni volta che un essere umano organizza o riorganizza il proprio rapporto con se stesso, con i simili, con le cose, con i segni, con il cosmo, si impegna in un'attività conoscitiva e di apprendimento. Questo è la concezione del sapere per Durkheim. Per questa prima parte introduttiva abbiamo finito e andiamo in quella che è la parte prima, cioè quella che stabilisce il titolo del rapporto educazione-società e le sue trasformazioni. E per il momento abbiamo a vedere anche la prima introduzione, ecco questa parte, intanto dove si dice che la sociologia dell'educazione ha come una doppia anima, perché dallo dice il titolo, la disciplina è la sociologia dell'educazione, ha sia la parte di sociologia che la parte educativa. E negli studi sui processi educativi si costruisce il legame di questi processi educativi con la realtà sociale più ampia. Però bisogna anche chiedersi da che parte c'è stata la sociologia dell'educazione, è considerata una parte dello studio dell'educazione, quindi della pedagogia, o è considerata una parte dello studio della società e quindi della sociologia? Vediamo che la risposta non è sempre definita. La sociologia dell'educazione è come scienza delle istituzioni e dei processi formativi. Qui in questo paragrafo ci daranno la risposta perché dicono che altre discipline più consolidate come la pedagogia o la psicologia, più avanzate all'inizio della sociologia dell'educazione, hanno avuto una posizione egemone di fatto rallentando uno sviluppo autonomo di una considerazione in chiave sociologica dei fenomeni educativi, cioè pedagogia e psicologia hanno preso il sopravvento e mentre la sociologia è rimasta indietro per questi studi e perciò questo non è stato un gran bene. Per esempio nel caso negli Stati Uniti che la sociologia dell'educazione era stata concepita come una parte dello studio dell'educazione, a partire da Dewey per esempio, e la pedagogia aveva all'epoca una valenza essenzialmente pratica, quindi anche la sociologia dell'educazione andava a stabilire che cosa era giusto, che cosa era bene nella società, non andare a spiegare i fenomeni della società stessa. Invece in Inghilterra si è avuto qualcosa di diverso perché l'Inghilterra non ha mai sviluppato l'interesse dei pedagogisti nella direzione di una education non a sociology e quindi è stato da sempre legato all'ambito della sociologia in questo studio. Se non aveva nessun punto di riferimento iniziale ha potuto svilupparsi già dal principio autonomamente. Vediamo quelli che sono in questa tabella, che è presente al libro ma andiamo un po' a spiegarla, quelle che sono le quattro tappe fondamentali dello sviluppo della sociologia dell'educazione, cioè quali sono state le differenze tra le varie epoche, dalla metà dell'Ottocento agli anni 2000 e le diverse domande che si sono posti, diverse problematiche che i sociologi dell'educazione hanno cercato di affrontare. Allora, la prima fase è quella fondativa dove c'è la scoperta sociale dell'educazione nelle persone dei classici, che è quella che andremo a vedere subito, subito dopo, ecco che è una parte in cui gli autori che abbiamo visto anche Durkheim, Marx, Weber, cercano anche loro di discutere di quella che è l'educazione e di farsi delle domande. Il periodo quindi va nel periodo proprio dei classici della sociologia, da metà Ottocento agli anni 50 del Novecento. Quelle che sono le domande, le problematiche che si pone sono quelle di ritrovare le basi dell'ordine e della solidarietà sociale, questo soprattutto Durkheim, formare il lavoratore e il cittadino e formare una nuova classe dirigente politica ed economica. Queste sono anche in generale le problematiche della società da metà Ottocento in poi e che si ripercuotono anche in quella che è la sociologia. Invece poi una seconda fase l'abbiamo dagli anni 50-60 del Novecento, dove c'è una riscoperta sociale dell'educazione e ci si occupa di studiare quello che sono proprio le problematiche ancora una volta detta dell'epoca, cioè lo sviluppo economico e sociale, l'istruzione come investimento e il legame istruzione-occupazione. Siamo negli anni del boom economico e quindi anche vedere quelli che sono i legami tra l'una e l'altra concezione. Poi un'altra fase della sociologia dell'educazione è quella tra gli anni 70 e 80, dove abbiamo uno sviluppo delle riflessioni teoriche e delle ricerche sui fenomeni e processi educativi, molto genericamente, ma nello specifico quelle che sono le problematiche sono la crisi dei sistemi di istruzione, che abbiamo visto prima nella frase iniziale di Postman e poi avanti così, quindi già i teorici del postmoderno, l'uguaglianza dell'opportunità di fronte dell'istruzione, quindi si discute proprio prima volta di uguaglianza, cosa che è una novità, ecco. E poi significati espressivi dell'istruzione e istruzione e mobilità sociale, anche qua non soltanto occupazione, ma anche vedere come questo si è collegato con l'uguaglianza educativa. E poi un'ultima fase dagli anni 90 agli anni 2000, dove si ha un corso di individuamento dello statuto epistemologico e metodologico della sociologia e dell'educazione e qua i temi sono molto più ampi, ma anche molto nuove, sono un po' i temi di oggi della scuola, studia i processi di cambiamento sociale e culturale, va bene, poi soprattutto la multiculturalità e la multimedialità, quindi una società multiculturale con una pluralità di ragazzi con etnene diverse in classe e la multimedialità, i nuovi media che hanno spopolato anche nella scuola. Si studia collegato a questo la diversità, le differenze e le disuguaglianze, l'istruzione vista come chance per tutti, siamo collegati col concetto di uguaglianza nel periodo prima e poi si discute su quella che è la qualità dell'istruzione e non soltanto un'istruzione nozionistica. Quello che abbiamo in Italia, la sociologia dell'educazione in Italia, è qualcosa che si è iniziato a parlarsi per la prima volta nel 1964 ad un convegno, la scuola e la società italiana in trasformazione. Però, come ho scritto poi tardi, nel 1964, da questo schermetto, cioè era già quasi verso la fine del secondo periodo, quindi insomma la sociologia dell'educazione era già nata e aveva già avuto alcuni suoi frutti. Però comunque anche in Italia inizia a cambiare qualcosa, almeno per quanto riguarda la società, prima nello studio di questo cambiamento, nel 1950 dove c'è stato, come da molte altre parti, il passaggio da una scuola d'elite a una scuola di massa. E in questo momento ci sono stati degli studi, ecco, su questo cambiamento, questa rivoluzione, però sono stati non da parte di sociologi dell'educazione, ma gli studi sono stati in prevalenza di natura statistica e sociografica, fatti da pedagogisti, da funzionari ministeriali, da operatori educativi e solo marginalmente da sociologi. Quindi prima di tutto la pedagogia, lo studio dell'educazione, soltanto in secondo luogo lo studio della società. E abbiamo così dalla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 alcune trasformazioni economiche, politiche e culturali che sono state uno spartiacco per tutti, quindi hanno fatto anche un po' svegliare e accendere la campanella dei sociologi che era il momento di discutere, di farci qualcosa, ecco, su questo fenomeno. E in particolare qua, nel 1962, che abbiamo la riforma della scuola unica, che è stato qualcosa di fondamentale, ecco, perché prima c'è una scuola molto più differenziale, dove c'erano la scuola per quelli che volevano subito lavorare, per la scuola per quelli dell'università e già dalle medie dovevi decidere il tuo futuro. Invece con la scuola media unica c'è stato questo proprio cambiamento in positivo per quanto riguarda l'inclusività. E così anche Cesareo scrive nel 1974, Cesareo, la scuola tra crisi ed utopia, dove dice che fa emergere quelli che sono i limiti del modello formativo scuolacentrico e della massiva continuità iniziale e quindi del fatto che dovrebbe essere circa estrazione, vari gradi e se non hai fatto gradi precedenti non puoi fare quelli successivi, se ne hai fatto quel tipo di scuola non puoi puntare ad altro, eccetera. E invece lui sviluppa un'analisi delle linee di tendenza verso il modello definito del policentrismo normativo. Non soltanto la scuola come fonte unica di educazione o un tipo di scuola particolare, ma più diffusa l'educazione e della discontinuità formativa e della stessa carriera di vita dei soggetti, con l'accento sulla necessità di una flessibilità istituzionale in grado di consentire un raccordo tra scuola e mondo del lavoro. Questo è un po' quello che abbiamo detto che è la rivoluzione della scuola media unica. Poi andando avanti abbiamo negli anni 80 finalmente la sociologia dell'educazione che raggiunge la maturità anche in Italia, anche con un ampliamento di quello che è l'ambito di studio, non soltanto le scuole di gradi ubicatori o comunque dei bambini, ma una trasformazione anche degli studi universitari e un dibattito sulla scuola pubblica o la scuola privata. Alla fine degli anni 80 abbiamo anche in Italia la discussione di alcuni temi come il tema della mobilità sociale e della dispersione scolastica con forme di abbandono e successo della scuola, cioè stabilire perché a volte succede questo, perché la scuola perde alcuni suoi studenti e poi uno studio sui giovani e sui loro orientamenti e comportamenti verso l'istruzione e anche verso la stessa istituzione scolastica. Poi finalmente dagli anni 80 ai giorni nostri vediamo che abbiamo un po' di carenze degli studi sugli insegnanti e sulla dispersione scolastica che invece avevamo prima degli anni 80, ma si accendono nuovi interessi, c'è un interesse sull'immigrazione, sulla scuola multiculturale, sui media e anche sui giovani. L'Istituto Yard di Milano fa diverse ricerche sociologiche di diverse tipologie ecco quantitative anche sulla condizione giovanile. E quindi adesso andiamo un po' a vedere qual è questa differenza, cioè qual è l'oggetto di studio per la sociologia dell'educazione e facciamo un po' una distinzione tra quella che è la sociologia educativa e quella che è la sociologia dell'educazione. Perché la sociologia educativa è una teoria normativa, come abbiamo visto come Durkheim. L'educazione è, o comunque la sociologia educativa, è una modalità per conseguire i fini disperati e per realizzare i programmi d'azione. È una tecnica per risolvere i problemi scolastici e come mezzo di controllo dei processi educativi. Quindi la sociologia ha uno sguardo che è più ampio, riesce a vedere un po' la visione d'insieme, non soltanto delle istruzioni di sé perché non funziona, ma vederla anche a rapporto con la società e quindi riesce a risolverne i problemi che si creano. E ha valore innovativo, cioè ha valore di comunicare quelli che possono essere dei consigli per fare in modo che l'educazione sia più efficace. Invece la sociologia dell'educazione ha un altro obiettivo perché è una disciplina volta soltanto alla conoscenza. È una teoria in grado di spiegare le situazioni e i fenomeni presenti e passati, nonché di individuare tendenze e improbabili alternative e ha una dimensione relazionale non normativa. Quindi di solito è qualcosa che arriva più tardi che i fenomeni siano accaduti, diciamo, è all'obiettivo soltanto di spiegare che cosa è successo, ma non di pretendere di cambiare perché quello che cambierebbe al massimo è il passato. Però si studia anche magari per il futuro che cosa era successo quella volta, che cosa aveva funzionato, ma proprio più con uno sguardo è rivolto all'accaduto per poi anche capire in che direzione sta andando, ma non per vedere quali sarebbero le strategie efficaci per fermarlo. Certo potrebbe farlo, però la sociologia educativa, cioè anche lo stesso sociologo può fare entrambe le cose, però distinguiamo questi due ambiti. e vediamo che la sociologia ha anche qua, cioè la sociologia dell'educazione, diversi approcci, l'approccio sociologico puro che privilegia i legami tra individui e gruppo o tra individuo e società, abbiamo l'approccio psicologico che assume il soggetto come centrale della sua analisi e l'approccio pedagogico dove c'è la necessità di individuare un ideale, un modello da perseguire e quindi un'azione adeguata al suo raggiungimento, cioè al dover essere della scuola. Un momento che adesso andiamo a vedere un po' di diverse teorie, qua sto ancora condividendo, sì, ok, perfetto. E quindi però tutte queste differenze, gli approcci, l'approccio sociologico, psicologico e pedagogico hanno, c'è un'opinione di Wallerstein, che hanno bisogno di aprire le scienze dell'educazione per evitare un provincialismo, cioè è necessario non che chi fa il sociologico dell'educazione con approccio psicologico rimanga tale all'interno di questo approccio senza muoversi in altri campi, cioè bisogna anzi conoscere anche discipline più distanti come l'economia, come la storia, eccetera. E quindi cerchiamo un ambito di interesse o comunque una definizione di quella che è la sociologia dell'educazione e una possibile definizione data da Brookhover, che vediamo qua in un testo del 1949, quindi molto presto, cioè Sociology of Education a Definition, dove stabilisce quelle che sono le quattro principali aree di studio della sociologia dell'educazione. La prima è l'analisi delle relazioni del sistema educativo con altri aspetti della società, la seconda studia le relazioni dentro la scuola, la terza l'analisi dell'influenza della scuola sul comportamento e sulla personalità dei suoi membri, a partire anche dall'insegnante, e la quarta è l'influenza della comunità e delle diverse agenzie di socializzazione sull'organizzazione scolastica, quindi qua proprio un ampliamento ulteriore. Poi abbiamo Floor e Huxley, che loro invece trovano altri livelli, in questo caso che vanno dal più generale, cioè dalla società, dal mondo tutto, al più specifico, al singolo caso, però che dovrebbero tutti essere ambito di studio della sociologia dell'educazione, dal più microscopico al più macroscopico. Allora, il primo è che studiare il sistema educativo nelle sue relazioni con la più ampia struttura sociale, quindi i valori, l'economia, la demografia, la stratificazione e il politico, prima la politica. Il secondo è studiare quella che è un livello ancora sotto, è un po' più basso, la struttura sociale e il funzionamento dei gruppi che costituiscono il sistema scolastico, quindi le scuole e le università. Il terzo, l'obiettivo è quello di studiare le relazioni sociali riguardanti le attività educative, quindi il funzionamento della classe e la cultura della scuola. E il quarto, più particolare, per particolarismo, è studiare le influenze educative implicite esercitate dall'ambiente sociale di riferimento su studenti e insegnanti, quindi come essi si influenzano a vicenda. In ambito italiano abbiamo Cesareo che stabilisce anche lui quelli che sono dei cinque settori d'indagine della sociologia dell'educazione, che ha anche un suo monimo testo dove ne parla, dove dice che questi settori sono il rapporto tra sistema e struttura sociale, quindi il rapporto tra istruzione e stratificazione sociale, lo studio dei determinanti sociali dell'educabilità, quindi fattori genetici e ambientali, un'analisi diretta dell'istruzione scolastica, studiando il sottosistema sociale e l'organizzazione, uno studio sugli insegnanti e sui componenti dell'educazione generale e studiare gli effetti dell'educazione scolastica, cioè il costruimento degli obiettivi, di essere prefissati e quali siano effettivamente questi obiettivi. Ribolzi, anche lui in ambito italiano, fa invece un elenco di quelli che sono i temi teorici classici della sociologia dell'educazione, non togliendo che ce ne possono essere anche degli altri, però questi sono quelli che a livello storico la sociologia dell'educazione si è quasi sempre occupata, cioè lo studio della funzione sociale dell'istruzione e in particolare della scuola, lo studio dei soggetti istituzionali del sistema scolastico, del sistema educativo, quindi insegnanti e studenti, lo studio dei processi di socializzazione, anche questa parola è connotata sociologicamente, non soltanto in contesto scolastico, ma anche in contesto extrascolastico, e l'analisi delle macro-relazioni tra sistema formativo e sistema economico-politico-culturale. E poi, in ultimo, l'analisi del rapporto tra scuola e stratificazione sociale, quindi selezione scolastica. La ricerca sociologica, però, è sempre arrivata ridosso delle riforme e, come ho detto prima, viene poco utilizzata quale strumento conoscitivo per introdurre delle innovazioni, ma è sempre uno strumento rivolto al passato. Per fare un esempio pratico, che viene riportato, è quello della riforma della scuola media unica nel 1962, dove l'evento è accaduto, è successa questa riforma, però la ricerca sociologica si è mossa soltanto a distanza di qualche anno per cogliere quelle che erano le resistenze all'innovazione da parte degli insegnanti, come Vincenzo Cesario, che ha nel suo testo del 1969, quindi più tardi scrive Insegnanti di scuola società, o Marzio Barbagli e Marcello Dei, nello stesso anno, scrivono un testo che prende posizione riguardo a queste introduzioni, Le Vestali della classe media, già dei titoli. Insomma, si capisce la posizione diversa dei due autori, però era un fatto già accaduto da un po' di anni, come per dire quello che stavamo accennando prima, cioè che l'educazione, la sociologia, l'educazione a differenza della sociologia educativa, ha più l'obiettivo di spiegare che quello di cercare degli segnali per fermare quello che sta accadendo. Ecco, questa è un po' l'introduzione, una definizione della sociologia dell'educazione, e poi andremo a vedere quelle che sono la prima teoria, quindi i classici della sociologia dell'educazione, il modello della dipendenza, e autori classici della sociologia in generale, ma anche della sociologia dell'educazione, come Durkheim, Weber, Marx, insomma andremo a vederli.